Sì, uno schifo. Poi qualcuno ha deciso di dipingerci sopra. Un vero capolavoro. Una cosa fantastica. I miei affari sono esplosi. No, sbocciati. È davvero magnifico. Se vedi l'artista, ringrazialo per me. Oh, eccola. Puoi farlo di persona. Ehi, signorina, grazie per il suo servizio. Ehi, signorina, grazie per il suo servizio. Grazie. 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 Sei incredibile, lo sai? Aspetta, aspetta, aspetta. Credevo che fossi qui per comprare dei fiori per loro. Chissà se fanno consegne. E... fatto. Ok. Bene. Spero che ai ragazzini piaccia il bouquet sole d'autunno. Grazie a tutti.